Le parole chiave sono le parole che inseriamo nei motori di ricerca quando cerchiamo qualcosa di specifico. Ranking Coach ti consente di vedere l'attuale posizionamento del tuo sito ottenuto in base alle parole chiave usate dagli utenti, il relativo volume di ricerca e la priorità assegnata. La tua selezione originale di parole chiave avverrà durante la configurazione iniziale del tuo progetto, ma puoi modificarle in qualsiasi momento attraverso la tua dashboard di Ranking Coach. Per farlo vai alla scheda motori di ricerca nel menu di sinistra. Clicca su parole chiave. Visualizzerai l'elenco delle parole chiave selezionate in fase di configurazione iniziale con la possibilità di trascinarle in una nuova posizione per modificarne la priorità. Le parole chiave più importanti che descrivono in modo generale la tua attività assicurati di posizionarle in alto visto che saranno utilizzate nella home page, mentre le parole chiave con priorità più bassa saranno utilizzate nelle sottopagine. La priorità viene assegnata in base alla posizione. Dalla posizione 1 alla 3 sono considerate di alta priorità. Dalla posizione 4 alla 25 sono considerate di media priorità. Dalla posizione 26 in poi sono parole chiave di bassa priorità. Per aggiungere nuove parole chiave ti basterà cliccare il pulsante aggiungi parole chiave posto in fondo alla pagina, digitare la parola nel campo apposito e confermare la scelta dal pulsante aggiungi. Per cancellarle dovrai cliccare sul tasto X posto sul lato destro delle parole chiave. Infine salva le modifiche.